Ciao a tutti, sono Valerio, in artefase, e da poco è uscito il mio singolo Per Come Sei Tu. Per Come Sei Tu è un brano autobiografico, parla degli attacchi di panico e dell'ansia. Io ne ho sofferto in passato anche in maniera abbastanza importante, quindi volevo raccontarlo in questa canzone, liberarmi di alcuni mostri. L'attacco di panico non è nient'altro che una conseguenza di ciò che dobbiamo far vedere alla società, dobbiamo essere sempre allineati a ciò che vogliono gli altri, quindi può essere una delusione d'amore, può essere non dimostrare ciò che siamo, le nostre fobie, non ammettere al mondo la nostra sessualità. Ecco, questo tipo di sensazione ci porta ad avere la conseguenza che è l'attacco di panico. Questo è stato condito da un beat abbastanza incalzante che dava in contrasto con la tematica del brano, appunto. Questo brano è stato prodotto dal mio amico Marco Lamagna, alla batteria c'è un altro mio amico Claudio Alfinenco, siamo collaboratori storici e mi aiutano in tutto quello che faccio e vi ringrazierò sempre. Prodotto da Imagina Production a Torino da Leciola e in featuring con Irene Sanguinetti. Irene Sanguinetti è una tiktoker laureata che nel suo profilo racconta proprio di queste cose. Il suo special, il suo parlato è stato fatto abbraccio, passatemi il termine. Abbraccio nel senso che è stata fatta un'ora di conversazione con lei ed è stato preso il punto dove veramente usciva l'emozione dell'ansia. Questo tipo di scelta ci ha portato a un altro tipo di scelta. L'altro tipo di scelta è stato il video. Il video è un altro esperimento sociale, mettiamola così, fatto tutto abbraccio, dove il protagonista, Lorenzo Valle, e tutti quanti quelli che sono gli attori, che non sono attori, sono persone comuni che sono venute a volontari a fare il video, non avevano un copione, non avevano un canovaccio, sono andati tutti abbraccio. Ed è uscito un bel video, emozionante, spero che vi possa arrivare. I prossimi progetti sono sicuramente l'uscita di Nuovo Brano a dicembre e ci vediamo in primavera-estate in giro per qualche festival. Ciao, un abbraccio e un bacio a tutti. Ciao!